Covenegidio è una compagnia basata in Pavia, Nord Italia. Manifacturing and supplying perfume, crimping and filling machines. La nostra compagnia è stata fondata dal mio padre Marco. Since 1993, ho scoperto, lavorando ogni giorno, cercando di sviluppare i soldi mondiali al mondo. I nostri clienti sono compagni di contratto, o i proprietari di brand, manufatturando perfume. Abbiamo scoperto un grande spettro del mercato. Iniziamo con il perfume budget, con le brand luxuri, e iniziamo con il perfume niche. Questo anno Cosmo Forf Bologna diventerà 50 anni. Per celebrare, sarà parte di un progetto speciale. Il perfume factory, sarà manufatturato un perfume fatto con la nostra macchina di filling automatica. Molti altri maggiori compagni italiani saranno parte del progetto, mostrando la esperienza di packaging in Italia per il mondo. Lentamente, il NET è stato il canale più importante per promuovere i nostri prodotti. I video sono molto effettivi, introducendo le macchine al cliente. e il cliente. Per sicuramente, i trade shows sono ancora molto importanti. Ogni anno partecipiamo a molti eventi. L'Europa, Cina, Giappone, e l'Ottorale sono le nostre principali destinazioni. La industria di perfume demanda privacità. Questo è qualcosa che i nostri clienti chiedono più e più ogni giorno. Per questo motivo, voglio descrivere i nostri clienti come molti e diversi. Infatti, non possiamo nominare le brand che lavoriamo con noi. e poi la relazione. La nostra città deliko Mettare, Grazie a tutti.